Alleluia, 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 Alleluia. Di mattino di Pasqua, ne ricordo di voi, siamo andati al seguito di aiutà. Senza nulla sperare, con il cuore sospeso, siamo andati al seguito di aiutà. Il Signore di Sotto, cantate con voi, che vi ha invitato di alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Am holy. Alleluia e con il tuo Spirito. Fraternita Rissetti, in questo giorno del Signore, in questo giorno di Pasqua, Preghiamo il nome del nostro Padre, perché bendita quest'acqua con la quali saranno spesso, il ricordo del vostro grandezza. Il Signore ci è il tuo intero, perché stiamo sempre credendo se il tuo Signore è stato un'altra cosa. Di ogni volta scorsa la preghiera del tuo popolo, che nel ricordo del mondo avvirà la nostra creazione e di quella che un'altra virata la nostra salvezza è il suo occhio. Grazie.